E' anche il tempo di metabolizzare il traguardo angosciante, come l'ha definito il segretario dell'ONU, del milione di morti, che siamo qui a riflettere su altri numeri. Ad esempio, Israele conta più vittime degli Stati Uniti in rapporto alla popolazione. Nel paese del Medio Oriente il tasso è di 3,5 morti per milione di abitanti. Negli States, che in assoluto hanno il record di casi ed eccessi, è al 2,2. Ecco perché il lockdown generale durerà più di un mese, forse anche di più, ha detto il premier Netanyahu, che però anche oggi è stato contestato da chi lo accusa di non aver saputo gestire la crisi e di approfittare del giro di vite per distogliere l'attenzione dai suoi guai giudiziari. Anche in Europa la situazione continua a preoccupare. In Spagna, il paese più colpito, con quasi 750.000 casi e più di 31.000 morti, il personale sanitario è messo a dura prova e gli specializzanti di medicina interna hanno manifestato a Barcellona per chiedere condizioni di lavoro decenti. Mentre a Madrid, chi lavora nei centri di prima accoglienza della periferia, chiede aiuto, perché mancano personale e risorse, proprio mentre viene introdotto un nuovo test rapido. La corsa al tampone crea problemi anche in Francia. Nei laboratori mancano i reagenti e così, malgrado le smentite del ministro della Salute, il programma per testare il maggior numero possibile di persone rallenta. Aumenta invece la preoccupazione in Germania, che entro Natale teme di ritrovarsi come Francia e Spagna. Rischiamo 20.000 nuovi casi al giorno, ha ammesso la cancelliera Merkel.